Iscriviti ai canali Blue Voice Live e rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Apprezzi i contenuti e vuoi sostenermi? Puoi farlo con un unico gesto, abbonati e potrai vedere i video senza pubblicità. Buona visione! Per gli iniziati, il scenario era il numero perfetto per eccellenza. Lo attribuivano alla natura e lo rappresentavano più particolarmente con l'esagramma. Dicevano pure che il 6, numero perfetto, era un numero circolare. Ed è giusto, poiché il rapporto del raggio sulla circonferenza ripetuto sei volte dà l'esagono e permette di costruire l'esagramma. Il numero sei discende genealogicamente dall'unità per mezzo del tre. È il paio di tre che è raddoppiato e l'armonia del due che è triplicato. Sempre in equilibrio, in tutti i gruppi, è il numero perfetto dei pitagorici. Il tipo della proporzione e della bellezza naturale.